Il Comando Provinciale di Chieti, nell'ambito della costante azione di controllo del territorio ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato un soggetto e sequestrato circa 9 kg di sostanze psicotrope, oltre a cinture, occhiali e capi di abbigliamento contraffatti di note griff. I militari della tenenza di Ortona, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno condotto un'articolata attività di indagine, eseguita anche con numerosi appostamenti e pedinamenti che ha permesso di individuare un'abitazione nel comune di Francavilla al mare, adibita ad una vera e propria centrale di spaccio. A seguito di riscontri effettuati nel corso dell'attività di Polizia Giudiziaria, le fiamme gialle di Ortona, con l'aiuto delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Pescara, nei giorni scorsi, hanno eseguito un blitz nell'abitazione di un ventenne di Francavilla, dove, a seguito di un'accurata perquisizione, grazie al fiuto del cane Daphil, hanno ritrovato nascosti sotto un letto un quantitativo di circa 2 kg di hashish e marijuana, oltre 8 g di cocaina. La perquisizione, stesa anche nel garage di pertinenza dell'abitazione, ha permesso di scoprire in un armadio un borsone con all'interno 71 panetti di hashish e tre borsoni al cui interno erano nascosti occhiali, cinture, scarpe, giubbini, felpe, jeans ed airpods, contraffatti di noti marchi. Il quantitativo di droga complessivamente sequestrato, insieme alla presenza del materiale idoneo al confezionamento, ha confermato i sospetti degli operanti sull'attività di spaccio possene essere dal soggetto che è stato arrestato.